Dal vivo, dal magnifico hotel e casino fan-tend di Las Vegas, Nevada, ecco Glow, le grandiosi lottatrici del wrestling! Allora, com'è Las Vegas? Black Magic. Sette, vincente. E andiamo! È stato molto bello, lo sai? Rindiamo a me che sbagliavo sul tuo odio per Las Vegas. Gli affari vanno bene, siamo piani per le prossime due settimane. Cosa ne dici di Sandy? Lei è il direttore artistico. Bevete qualcosa e puntate a Black Jack, offre la casa. Se continuiamo così, noi tre faremo tantissimi soldi. Magari posso fare un mucchietto di soldi della forma di mio figlio? Ok, non so cosa dire a riguardo. Adesso ho un lavoro e un compagno. E comunque mi sento ancora persa. Ma magari ti senti persa perché ti stai trattenendo. Vorrei chiedervi di estendere il contratto di Glow fino alla fine dell'anno. È incastrata! Che cazzo combinano adesso? Dio, io adoro i debutti degli show. È quello che abbiamo sempre voluto. Non potrà far finta di niente per nove mesi. Sono l'unico cui interessa mantenere in vita lo show. Allora cosa vuoi, Ruth? Non voglio rovinare ciò che abbiamo. Se non fosse stato per Bash, nessuna di noi sarebbe seduta qui oggi. Sei felice, vero? È probabile che non ci capiterà più di fare una show a Las Vegas. Quindi cogli il momento e apprezza quello che hai adesso. Ci farò cacciare da ogni casino prima di andarcene. Questo posto ti fa uscire di testa. Siamo così fortunate a stare qui tutte insieme. Abbiamo qualcosa per cui combattere. Saluti. Fatemi uscire, fatemi uscire, che non ce la faccio. Sono serio, non ce la faccio. Sam, rimani, ci stiamo tutti. Prendo le scale, prendo le scale. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!